La parzelletta di Geppo Squilla il telefono dentro a un manicomio Risponde la segretaria e fa Buongiorno, clinica per le malattie mentali Dall'altra parte la signora fa così Mi scusi, buongiorno, volevo sapere una cosa C'è qualcuno per caso nella stanza numero 30? La signora fa Un attimo che vado a controllare Dopo 5 minuti torna No, signore, guardi, la camera è vuota Volevo fare, perfetto, adesso ho riuscito a scappare La speglia dei gladiatori La speglia dei gladiatori Dimensione Suona Roma